Io ho sempre sottolineato come un club come il Palermo per chiudere il bilancio in pareggio deve fare plus valenza, come l'Udinese, il Chievo, l'Atalanta, la Sampdoria, il General del Torino e il Verona e tutte le medie di Serie A. Anche il Napoli che solo con Cavani Higuain ha incassato 170 milioni, ne aveva bisogno per coprire le uscite di bilancio. I nostri bilanci sono a disposizione e non ci sono voragini, ma costi eccessivi rispetto ai ricavi da coprire con plus valenza o capitale degli azionisti come fatto sino ad oggi. Ecco il perché dei miei soldi messi nel Palermo. Se il Palermo ha un bilancio con i giocatori che i tifosi vogliono e che io gli ho dato con 40 milioni di stipendi e altre spese per altri 40 milioni, è nei cassi 65 e ha 15 di perdita, io come ho fatto devo mettere 15 milioni all'anno dentro. E naturalmente se non ci fossero le plus valenze invece di 15 dovrei mettere niente di più. Le plus valenze a una società come il Palermo e le altre società nel calcio servono solo a questo, non c'è nessuna società di calcio che guadagna in Italia, neanche una. E' già un grande risultato se va in pareggio. Berlusconi ha lasciato il Milan con 400 milioni di debito, Moratti 600 milioni di debito, 700, che poi ha coperto con i soldi loro oppure con chi l'ha comprato. Per cui sono tutte notizie fasulle che vanno a dire che con le plus valenze sì, poi ci sono le minus valenze, perché mi ha fatto vedere la mia segretaria che ci sono le plus valenze e le minus valenze in tutte queste cose qui. In 15 anni di gestione Zamparino è stato avuto ricavi per Euro 1 miliardo 0,24, costi per Euro 1 miliardo 114, di quel miliardo 0,24 plus valenze per 272 milioni, di quel miliardo 114, minus valenze per 47 milioni, ammortamenti per Euro 290 milioni e costi stipendi per 491 milioni, perdita complessiva 69 milioni, finanziamenti complessivi 62 milioni, anticipazioni complessive 34 milioni, pagati imposte per 277 milioni. Questo è il bilancio. Ecco dove sono le plus valenze, se non avessi avuto quelle plus valenze lì, invece avessi avuto 69 milioni, avessi avuto 269 milioni. Prima di tutto oggi non percepiscono diritti in televisione inferiori, ma siamo più o meno tutto alienati, anche perché la posizione di classifica è molto importante, purtroppo il Palermo negli ultimi campionati erano nelle ultime 10. Ma sopravvivono con costi di gestione, costi di stipendi giocatori e staff molto più bassi e con le plus valenze anche loro. È chiaro che se il Chievo ha 20 milioni di stipendi e il Palermo 40, il Palermo ha bisogno di fare 20 milioni di plus valenze in più e il Chievo non ne ha bisogno, questa è la differenza. Poi ha un Presidente che è tutto il giorno e tutti i giorni presente in società, quello che manca a Palermo. Io purtroppo sono lontano a Palermo e secondo me qui in futuro servirà che il Presidente o un Galliano o un Marotto siano qui tutti i giorni vicino alla squadra. No, dopo la finale di Copitalia non ho smantellato la società, ho sempre detto che data la crisi in corso, io e il mio gruppo non potevamo più investire, ma in attesa di nuova proprietà che vogliono investire e sopravvivere. È quello che stiamo facendo, stiamo sopravvivendo con grandi sacrifici, perché il mio gruppo non può più mettere dentro, accoprire delle perdite che non ha più la liquidità come tantissimi imprenditori italiani. Io ho fatto i nomi di Berlusconi e di Moratti prima, per cui voglio dire, non è che sia una condizione generale. Ma ci sono già venuto oggi io dall'aeroporto qui, la Daniela mi ha detto, ma devo mandare a prendere sotto l'aeroporto? No, 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 io vengo con una macchina normale, non ho mica paura di camminare per Palermo. Vede, io non vivo a Palermo, ma incontro palermitani in Italia e in Europa che mi rispettano per quello che ho fatto e che sto facendo. Come penso della Palermo? Silenziora che mi rispetti per quello che ho fatto e che sto facendo, che non è quella dei sociali. Posso aver detto frasi per dare coraggio e spirito al giocatore, sicuramente. Chiaro che Glicani non si è dimostrato come Solentino, Diurkovic non si è dimostrato come Velotti, mai detto che Cassini era di bala se non per l'età, anche perché è di bala l'ho preso io, Bertolo è arrivato insieme a Pastore in ruoli diversi, Baloc è una promessa inespressa ad oggi, anche perché sempre infortunati. Ma le chiedo, chi ha preso Solentino, Belotti, Di bala, Pastore e Cavani? Ci ricordi i fischi riservati a Cavani, Pastore e Di bala l'anno del loro arrivo? E siccome mi chiede se capisco di calcio, guarda la mia storia a Venezia e a Palermo, perché ora è la sua dimensione di questo momento, dimensione che è data dal bilancio del Palermo. Il Napoli in Serie A incassa 160-180 milioni, il Palermo in Serie A 50 milioni, questa è la differenza. È la stessa differenza che fa notare Sarri e De Laurenti con la Juventus, dice noi incassiamo 180 e voi 400, come facciamo a fare lo stesso campionato? Questa è una risposta. E noi siamo nello stesso campionato e naturalmente oggi il bilancio del Palermo è allineato fra le ultime 10, non fra le prime 10. Ma anche di Di bala, anche di Pastore, si è dimenticato Di bala e Pastore, sappi che si è dimenticato, perché Di bala l'ho venduto a 40 e Pastore a 42, altrimenti sarei un fesso più grande che con Balo. Il problema delle commissioni è generale e io l'ho sempre combattuto, ma oggi sul mercato comandano i procuratori e i bidoni per i costi sono stati quei giocatori che con stipendi alti nulla hanno dato. È chiaro che non sempre indovini e ci sono giocatori con un costo alto che nulla hanno dato, Vedi Raggi, Cassini, fatto con il procuratore di Di bala e altri. Ma io nel bene e nel male mi avvalgo del consiglio del miglior direttore sportivo di turno, più consulenti come Di Martio, Kurkovic, Perlest, Europa e qualcun altro. La risposta è io non so quando lei è nato, ma nella storia del Palermo nessuno ha fatto tanti campionati in A come me, senza aiuto da nessuno, specialmente da Palermo. Vede, noi quest'anno incasseremo 25 milioni di quale cadute, più 10 milioni di accessioni da Cruz Valencia, che sommate alle altre entrate faranno un totale di 42 milioni, perché le entrate della Serie B sono molto basse. Le assuti per costi di gestione, più ammortamenti di giocatori, saranno di 46 milioni. E questi sono i bilanci che ho preparato, che vi ho sempre invitato, quando volete andare dalla Daniera, a farveli dare. Sono i bilanci di gestione. Per cui ecco dove sono andati il paracadute. Il paracadute l'abbiamo inventato perché quando ho segni dalla Serie A, è il Palermo che quest'anno è sceso, ha stipendi di giocatori e tecniche 25 milioni. Il Cesena che fa lo stesso campionato ce n'ha per 4. Come fa a coprirli se non ci fossero le paracadute? Punto di domanda? Diamanti è stato preso da me l'anno scorso sul consiglio di Fagiano, è avvalato da me. Diamanti mi sembra abbia realizzato una rete l'anno scorso, un gol ha fatto, ed è una punta. Negli anni precedenti altri due gol. Diamanti sarà un costo alto per noi anche se andrà via. La decisione sulla squadra è presa da me, Tedino e Lupo, condividendo insieme ogni decisione. Tutto quello che abbiamo fatto quest'anno è stato condiviso in tre sempre. E anche oggi avremo una riunione ancora per finire il mercato. La decisione sulla squadra per la mia personale opinione è che se Diamanti fosse in campo bravo, come sui social, sarebbe capocanoniere nel suo campionato. Ma anche in campo non fa gol. Giocatore che non ci ha dato nulla. La mia domanda è perché è Amato? Punto di domanda. Io faccio la domanda. Il gruppo di famiglia aveva in programma i progetti commerciali nel Regno Unito e doveva aprire delle punizioni bancarie. Ecco perché l'apertura e la chiusura sui punizioni mai utilizzati, ma per motivi di sicurezza, perché probabilmente non hanno ritenuto l'operazione che dovesse andare avanti. Ma non vedo con l'accenti col Palermo e cosa gli interessa a questo signore delle faccende del mio gruppo. La mia risposta è dovete chiedere a voi, a chi agite in continuazione nell'ultimo anno o negli ultimi anni contro gli interessi della società. Che sarà la vostra squadra anche dopo di me? La società, la squadra è la vostra, dei tifosi, di quelli che si chiamano tifosi. Chi vi avrebbe ricostruito la squadra del team tecnico attuale se non ci fossi stato ancora io? Quando sono arrivati su a dirmi vattene, se fossi andato via chi faceva la squadra? Sono delle domande che sono fuori dal mondo. Con giovani molto bravi di Palermo, come Andrea Siracusa, nostro responsabile ufficio stampa, e Todaro, validissimo team manager, Francavilla, nostro medico sociale, Sikera, ufficio marketing e altri che non ho incontrato oggi, chiedete a loro come lavorano con Zamparini. Chiedete ai collaboratori di Palermo che lavorano con me come si lavora con Zamparini. Anche dal punto di vista umano. Questa è la bufala alimentata dall'ignoranza sulla realtà dei fatti. Tenere il Palermo in seriato dopo 32 anni è già vincere qualcosa. Purtroppo per me Palermo è un modo per perdere tanti soldi, non per guadagnarli. E si vede dai bilanci. L'ufficio internazionale Witters è incaricato dei contatti e della trattativa con gli investitori interessati al Palermo. Naturalmente con un contratto di riservatezza che mi impedisse qualsiasi risposta. Credo e spero che la trattativa porti al risultato positivo molto presto. Con la stessa che hanno avuto anno scorso i tifosi del Verona è lo stesso che hanno quest'anno quelli di Empoli e Pescara. Comunque anche anno scorso la incidenza degli incassi è stata del 4% circa e quest'anno sarà del 2% sul totale dell'incassi del Palermo. Importante pertanto non è l'incasso che non cambia nulla al nostro bilancio, ma la presenza dei tifosi per incoraggiare la loro squadra. Per me sarà importante la cifra che dovranno investire. Nel calcio moderno per primezzare servono investimenti che in Italia ora non ci sono. Per la mia parte troveremo l'accordo facilmente. Vede, il mio scopo è uscire completamente. Se richiesto un consiglio da esterno lo potrò sempre dare, ma non accetterò mai mansioni ufficiali. Diverso è l'opzione di ingresso in società senza nulla pagare a me, ma immettendo denaro nelle casse sociali. Naturalmente non con me Presidente, né in mia gestione diretta. Vede, non so chi abbia alimentato la favola del mio amico Davo Kulkovic. Per anni sta dando a tutti i giocatori provenienti dall'Esta Ludinese e altre società europee. A me ha dato tra i coschi, costo 1 milione, valore 2 milioni. Posavec costo 500 mila, valore 3 milioni. Djurkovic prestito un anno uscito. Nestorovic costo 500 mila, valore 15 milioni. Raikovic costo 1 milione, valore 1 milione. Baloc costo 5 milioni, valore 2 milioni. All'esami costo 1 milione e 2, valore 7 milioni. Salai prestito 300 mila, persi. Yajaloc costo svincolato 1 milione e mezzo di valore. Totale costi 9 milioni e mezzo. Totale valore a oggi 32 milioni. Questi sono i giocatori che mi ha dato Kulkovic. Quelli che ha messo in giro stranamente tutte le migliori squadre europee eccellono perché hanno giocatori dell'Est. E io dico sarete mica razzisti. Conoscendo i palermitani no. Mio padre ha fatto l'emigrante in Sud America per 30 anni, amico in quei paesi di molti siciliani, che sono il contrario del razzismo. Mio padre era operaio, non ricco posidente e mi ha insegnato il valore del lavoro, della famiglia e della toleranza. Li ami anche lei, anche se sono slavi. Sono i giocatori della sua squadra. Vede con il clima che avete creato a Palermo negli ultimi 3 anni. È molto dura. E dopo il blitz della Guardia di Finanza con grande clamore mediatico è ancora più dura. Ma io sono con orgoglio una persona pulitissima e sono convinto che le indagini in corso chiariranno la mia onestà. Vede, lo so che l'ho faso e amato, in quanto anche palermitano, chiede a lui se preferisse restare o partire. Non dipende dal Palermo, ma dal giocatore. Per me è ormai con la testa lontano dal Palermo e si sta allenando male. È chiaro che dove andrà non farà il titolare, così come si rimane con grande piacere mio, Conte Dino, dovrà studare e lavorare per guadagnarsi il posto. Cosa che non sta facendo. È una domanda alla quale rispondessi sarei anche stupido. Il problema non è quanto serve per acquistare il Palermo. Io nel Palermo ho messo, da quando sono qui, circa, e ci sono tutti i tabulati poi, che siete invitati quando volete con la Daniela a vedere. Io ho messo circa una novantina di milioni. È chiaro che oggi il Palermo in Serie B non vale quella cifra. È chiaro che il contratto che avevo fatto con Baccalini si basava soprattutto più che sulla cifra del Palermo, che era stabilita, ma sulla cifra che erano circa 130 milioni che servivano per costruire lo stadio, per costruire il centro sportivo e per fare da Palermo una squadra che potesse competere per le Coppe europee. Questo era il programma. Oggi rimane la stessa domanda. Io avrò degli incontri nei prossimi giorni e naturalmente, come ho già detto anche ad Orlando, è molto importante che chi arrivi qui o chi arriva in Italia abbia i soldi da investire nel calcio moderno. Perché oggi il calcio è cambiato completamente. Il Milan e l'Inter ne sono l'esempio. Avevano due grandi imprenditori più grandi di me, che si chiamavano Moratti e Berlusconi. La Roma ne è l'esempio. Altre società che vengono in questo momento contattate, il Prama, mi sembra che siano già entrati i cinesi, servono capitali. Il Paris Saint Germain, avete visto quello che ha speso, il calcio internazionale, se si vuole andare a certi livelli bisogna competere con stipendi da dare ai giocatori di un certo tipo. I compratori, non è importante quanto devono dare a me, quanto investiranno nella squadra. Quello che voglio far sapere alla gente è che loro si impegnino. Prima perché Napoli è un altro mercato, viene da Maradona, viene da un mercato che porta 70-80 mila persone allo stadio, viene da un mercato che offre a Napoli e lo so dalla sua amministrazione la copertura di tutte le spese di gestione del Napoli esterni, viene fatta da sponsor esterni. 100% vuoli aerei, alberghi, ritiri, carta igienica, tutto. Il Palermo 0, io a Palermo ho avuto 0. In più il Napoli in questo momento qui fattura circa 180 milioni, il Palermo in serie A 50. Questa è la differenza, il Palermo non può permettersi degli stipendi di giocatori che si permetteva quando io ci mettevo dentro 20-30 milioni all'anno, che si permetteva quando mi facevano perdere 10-15 milioni che io dovevo coprire le perdite, ma erano dovute non a spese folli, erano dovute agli stipendi. Miccoli guadagnava 1 milione e 3, che valgono di 2 milioni e mezzo all'anno, oggi il Palermo non si può permettere un Miccoli, non si può permettere un Toni, non si può permettere certi giocatori, questa è la differenza con Napoli. Io spero che gli investitori che arrivano possano permettersi di fare questo. Io non ho mai messo nessun manifesto, non so chi li abbia messi e non lo pensavo, si comincia di adesso, pensavo fosse un miracolo il fatto che fossimo andato con una buona squadra alla finale e sapevo già in quell'anno lì che c'era una grande crisi nel nostro paese, che il problema per me non era tanto il Palermo, ma le mie aziende, che naturalmente vivono ancora quel periodo di crisi, perché l'Italia non è uscita da quella crisi, è cambiato il mondo da allora. Ripeto la stessa risposta che ho dato prima, il mio gruppo non è più nella condizione di mettere soldi per coprire le perdite del Palermo e sto cercando di gestire al meglio il Palermo in questa situazione e in questa situazione c'è anche per qualche errore tecnico mio, specialmente agli allenatori, anche la Serie B, come c'è stata la Serie B l'altra volta, pur avendo una spada molto più forte di adesso. Succede perché il Palermo oggi è in quella fascia, per le entrate che ha, di lottare con le squadre che hanno le stesse entrate, con l'Udinese che, guarda due anni fa, è arrivata a un punto dietro di noi, si è salvata anche l'ultima partita, col Chievo, con l'Empoli, con quelle squadre che hanno lo stesso bilancio nostro. I 20 milioni di Euro per far guardare i conti sono un'invenzione sua, sicuramente io ho fatto oggi le tabelle, mi ha dato la tabella del bilancio la Daniela, perché ho chiesto poi più i dati per questo, noi quest'anno avremo entrate per 42 milioni, perché non c'è solo qui, e abbiamo uscite per 46 milioni, per cui avremo 4 milioni di soldi che devo trovare io per coprire la differenza, non 20 milioni. Perché? Perché i costi ancora del Palermo, purtroppo, solo di giocatori sono di 25 milioni. Perché hanno inventato il paracadute? Non per dare i soldi alle società, ma per coprire le spese. Io penso che il Cesena avrà 4 milioni di stipendi, il Palermo ne ha 25. Guai se non ci fosse stato il paracadute. Io ho bisogno di 20 milioni di plusvalenze, tant'è che ne abbiamo fatti circa 10, una domanda che ho fatto a Cascio un mese e mezzo fa, gli ho detto guarda Cascio, che mi devi dire se hai intenzioni di venire, perché se tu non arrivi, io sono costretto a vendere neanche le staroschi e a costruire una squadra per andare in seriale lo stesso, ma ho bisogno di fare delle plusvalenze perché non mi basta il paracadute con gli stipendi che ho. E naturalmente di lasciar fuori anche certi giocatori, i rispoli o le altre cose, perché ripeto, i 25 milioni me lo sono mantenuto perché sono convinto che arriveranno anche loro. però malgrado tutto abbiamo fatto un ottimo mercato, abbiamo fatto circa 10 milioni di plusvalenze invece di 20, per cui direi che dai dati che ho detto io mancheranno 4 milioni neanche 10 e spero che rimangano tutti i giocatori che ho adesso e io ho fatto una squadra costruita per andare in Serie A. Mi auguro che arrivino gli americani e naturalmente io li vedrò penso settimana prossima e se arriveranno loro naturalmente io li farò presenti quelli che sono gli investimenti, come ho fatto io quando sono arrivato, di comprare già a gennaio 3-4 giocatori che siano già pronti per la A per fare la differenza. Non posso andare nel bar sport a sentire che loro vogliono comprare una punta, se non è stata comprata una punta è perché noi pensavamo, essendo mi sembra, avendo girato a dicembre 38 punti in 19 per dire con un 2-2, ed era un miracolo, l'ha detto anche Guidolin che era un miracolo. Siamo andati in ritiro in Spagna, mi ricordo, c'era Piero Grasso con me e siamo tornati indietro irriconoscibili, abbiamo perso 3-0 mi sembra con la Sampdoria la prima partita del girone di ritorno. Era una caratteristica anche di Guidolin, stranamente le sue squadre, il Bologna prima, non mi ricordo che l'altra squadra, avevano fatto lo stesso percorso, che facevano un campionato, un girone di andata favoloso e un girone di ritorno dell'Eterio, tant'è che a Bologna lui fu esonerato e ebbe delle grosse difficoltà. Dire che il Palermo di quell'anno era a 38 punti per Amauri è falso, tant'è che Amauri poi nella Juventus non si è rivelato un Dybala, si è rivelato un buon centravanti e direi che abbiamo fatto un miracolo il girone di andata, difficilmente percorriva il girone di ritorno, tant'è che se voi andate a vedere le mie interviste di quel periodo, io dicevo che noi dovevamo combattere per andare probabilmente nelle coppe europee, ma non per lo scudetto, che era impensabile e naturalmente noi siamo andati in Coppa UEFA, che era un ottimo risultato per il Palermo. Una delle cose che io non ho mai fatto è essere sui social e coltivare la stampa, io sono sempre stato zamparini per quello che sono, nel bene e nel male, soprattutto una persona molto onesta, mai invidioso di essere un allenatore, sempre gli allenatori sostenuti da me, la favola che è venuta fuori perché io ho esonerato tantissimi allenatori, ma non perché non li ho sostenuti. Rossi è andato via perché ha perso 7 a 1 in casa con l'Udinese e nello spogliatoio qui sotto ho detto Presidente non ci capisco più niente, e io gli ho detto se non ci capisco niente stai a casa. Rossi era tanto stimato da me, penso l'ho richiamato poi forse, che due anni dopo, quando avevo bisogno di un allenatore, non so chi, fu esonerato, chiamai sia Rossi sia quello che adesso allena il NAN, che prima è quello del Nester, come si chiama? Ragneri, bravo. E Ragneri mi disse di no e Rossi mi disse di no. Prese due giorni di tempo, poi mi disse che non se la sentiva. Io prima di prendere, penso Casperini, presi quella volta, avevo chiamato Ragneri e Rossi, perché Rossi è un allenatore che ho sempre stimato, anche se la sua carriera dopo di me non ha portato a niente, così come tanti altri allenatori che noi abbiamo visto, Iacchini non lavora, Ballardini non lavora, Lerenzi non lavora, Corini è andato a Novara in Serie B, non è che abbiano fatto delle carriere, è che io fossi un visionario, sicuramente io prendo delle decisioni, molte sono sbagliate, io ritengo che l'anno scorso sono andato in Serie B perché ho sbagliato, specialmente agli allenatori, e specialmente uno che mi ha fatto arrabbiare, che era Ballardini, che mi ha fatto arrabbiare perché diceva che voleva andarsene via, perché mirava più soldi, e io sentendo l'orgoglio e non il cervello l'ho lasciato andare via, e ho sbagliato, gli altri mi hanno mandato in Serie B. Io non so chi abbia alimentato la favola del mio amico Kukovic, è una favola che hanno alimentato, non so da chi qui a Palermo, lui è stato per anni il panel scout dell'Est per l'Udinese, tutti i giocatori dell'Est che giocano con l'Udinese vengono da Davo Kukovic, lui è il procuratore di Matric, il miglior giocatore del Real Madrid, è il procuratore di tanti altri giocatori di valore, che lo amano, perché lui prima di essere un procuratore è un uomo, ed è un mio amico, proprio perché è un uomo. A me ha dato, tra i koschi, costo un milione, valore oggi 2 milioni circa, Posavec, costo 500 mila Euro, forse di meno, valore oggi 3 milioni, Durkovic, prestito di un anno, uscito, non era all'altezza del Palermo, Nestorowski, costo 500 mila Euro, valore oggi 15 milioni, me non ho offerti 12, ho detto tutto di no, Rajkovic, un milione, un milione, non di più, Balog, costo 5 milioni, valore massimo oggi, in questo momento 2 milioni, all'esami 1 milione e 2, valore di oggi 7 milioni, ne ho rifiutati 5 dalla Turchia, Salai, prestito 300 mila Euro, Iaialo, svincolato, valore di oggi 1 milione, totale dei costi 9 milioni e mezzo, totale dei valori dei giocatori circa 30 milioni, questo è il lavoro che ha fatto, tutto il resto sono fantasie che non so chi ha creato, io non lo sento da due mesi, è amico mio di famiglia perché lui mi porta la farina e io gli do il vino, è ed è una bravissima persona, è per i giocatori dell'Est, chiedo sempre a lui, come per i giocatori del Sud America, chiedo sempre a Gianni Di Marzio, come per i giocatori italiani di B, chiedo a Foschi, oltre alla valermi dei miei, oggi non ho bisogno perché se c'è un talent scout perfetto, con l'aiuto di Lupo che è molto bravo, è Tedino, perché Tedino conosce tutti i giocatori del mondo, perché lavora come un pazzo da tempo su tutti questi dati qui e tutta la squadra che noi abbiamo fatto, i giocatori nuovi che sono arrivati quest'anno, sono arrivati con l'avvallo del 100% di Tedino, altrimenti non sarebbero arrivati. Oggi se c'è un problema grosso che c'è nel mondo del calcio sono i procuratori, lo sapete sempre, io sono in battaglia con i procuratori da circa 3-4 anni, mi hanno fregato con Pastore, mi hanno fregato con Di Bala, mi hanno fregato anche con Baloc, tant'è che il milione e 8 di quei non è stato pagato, sono stati pagati 3 milioni e 2, e sono purtroppo giocatori che vengono pagati così, io Di Bala l'ho pagato 12 milioni, mi davate tutti del cretino fino a quando Di Bala non è stato venduto a 40, Pastore l'ho pagato 6 milioni e metri dalla metà, mi davate tutti del Pastore tedesco fino a quando non è stato venduto a 42, io penso che Baloc, che oggi è infortunato, quando è arrivato Tedino mi ha detto guardi ho visto Baloc nel nazionale, penso sia il giocatore di più grande valore tecnico che abbiamo in squadra, cercherò di farlo diventare un giocatore, io lo spero, e spero di dire perché Baloc l'ho pagato quella cifra, naturalmente io non ho mai visto Baloc giocare, ho mandato il direttore sportivo di allora, che era Gerolin, ho mandato Di Marzio a farmi le relazioni, le relazioni erano di un ottimo giocatore, c'era l'Ajax in combutta con me con lo stesso prezzo e mi sembrava di aver fatto un gran colpo fregandolo all'Ajax. E' fallita perché non ha messo i soldi sul tavolo, cioè se a un certo momento arrivano quei soldi che avevano promesso quei contratti, io ho fatto dei contratti con Bacaglini e con Integritas, che per fortuna la procura ce l'ha oggi di Palermo perché la finanza me li ha sequestrati, per cui ce l'hanno anche loro, e lì sono scritte tutte le cifre e c'erano 200 milioni che loro dei quali mettevano 130-150 milioni per le attrezzature sportive e per lo sviluppo del Palermo, che non è poco. Per cui io non c'entro niente con la costruzione dello stadio con Bacaglini, facevamo parte di un progetto insieme perché il contratto con Bacaglini e con Integritas non era solo per il Palermo, ma era su tutti i miei progetti in Italia, e sono per circa 3 milioni. L'unica cosa che a me farebbe piacere è costruire uno stadio a Palermo perché voglio bene a Palermo, ma non perché deve essere mio. Quando io ho firmato il contratto, questo è uno scoop che le do perché è simpatico, quando io ho firmato il contratto con Bacaglini, uno il 9 di febbraio come gruppo su tutti i miei progetti, uno il 24 di febbraio sul Palermo, dopo il 9 di febbraio, siccome quello di febbraio era basato su tutti i miei progetti, era basato su una linea di credito di circa 2 miliardi che Belgrò dava per creare liquidità per i progetti, un contratto fatto con loro, quando Bacaglini mi ha detto che è stata fatta, stanno arrivando i soldi da Singapore per queste operazioni che abbiamo fatto e ok, se tu ho fatto mi dici ok, puoi fare anche il Presidente così cominci a prendere, ed era quasi una prova per vedere se quello che mi aveva scritto era vero. Per me il fatto che lui ha accettato di fare il Presidente e di andare da Orlando a dire che faceva lo stadio e di andare all'università, di andare da tutti dove è andato, mi rendeva tranquillo e diceva che non puoi andare a dire delle cose fasulle. Purtroppo oggi si sono dimostrate fasulle, non è che ho messo lì Bacaglini per coprire qualcosa, anzi purtroppo quando dopo l'Udinese io ho chiamato Bacaglini e gli ho detto guarda che bisogna mandare via, perché avevo già chiamato Ballardini, bisogna mandare via Lopez perché l'unica possibilità di salvarci è tenere Ballardini, lui mi ha risposto no, qui comando io faccio il cazzo che non era vero e l'ho lasciato fare, se non ti iniziare via. Se lei è contento che io mi prendo i soldi e poi il Palermo non abbia un futuro, il fatto che io mi preoccupo del futuro del Palermo mi preoccupo anche per lei che mi fa questa domanda e per voi e dovreste essere molto preoccupati anche per voi, non dei soldi che prendo io, ecco non riesco a capire questa posizione, via Zamparini e al suo posto chi? Sarei felice di avere 10 milioni di capitale a ciascura, vorrei dire che avrei 30 milioni di capitale, Mediagol mi ha mandato un'altra domanda dove uno dice guarda perché avete costituito tre società a Londra la mattina e le avete chiusi il giorno dopo? e ho detto sono affari non del Palermo Calcio, sono affari del mio gruppo perché aveva aperto tre conti correnti con tre società per delle operazioni finanziarie che poi non sono andate a buon fine e l'ha chiusa subito, ma non esistono 10 milioni. Se tutto va a sentire però quello che dice la stampa, io l'ho imparato dopo che è venuta la guardia di finanza dal giornale il giorno dopo che avevo 30 milioni nelle banche inglesi, magari, chi mi ha fatto queste cose qui, infatti sono state chiusi subito che la mia segretaria si è accorta anche lei, era un professionista, di cui non faccio il nome importante, di Roma, che tramite un professionista di Londra aveva l'incarico di formare questa società per operazioni finanziarie di quei miei asset, quando ci siamo accorti che era una persona fasulla in Barea, l'abbiamo chiuso il giorno dopo. Io non voglio rassare Palermo in questa maniera, in questa maniera l'avete grata voi, sputanandomi negli ultimi due anni, dicendo che io porto via i soldi dal Palermo, dicendo delle cose completamente non vere, ma soprattutto a Palermo, perché io quando vado in giro a Londra, a Milano, a Roma, i palermitani mi fermano, mi ringraziano, in tutta Italia sanno nel calcio che persona sono io, io non devo dimostrare a Palermo chi sono, io ho 76 anni, 50 anni di imprenditorio, con un'onestà che deve essere esempio per tutti, con i miei conti correnti a disposizione di tutti, non devo dimostrare niente, sono stato insultato a Palermo solo perché la squadra andava male, lo accetto, ma non dire che tutto a Palermo mi odia, altrimenti Palermo non sarebbe la Palermo che io amo, assolutamente no, se lei vede oggi il problema dei social su un funo inserto che ha fatto il Corriere, è un problema globale, mondiale, di cui non sappiamo come difenderci, da quelle persone che ci insultano con delle falsità, ecco perché io rispondo alle vostre domande, ma ne rispondo a sempre, a qualsiasi domanda, ecco perché i miei dati che ho qui di bilancio, dove si dimostra che io ho tirato fuori circa 80 milioni, 90 milioni per il Palermo Calcio, dei quali circa 60 milioni mi cedendo a coprire le perdite, dove si dimostra che da quando sono io ho dato al fisco 277 milioni pagati, 277 milioni, per cui tutte queste cose qui, dove sono tutti i dati di bilancio, queste cose che quando volete, e se lei si ricorda qualche conferenza stampa di gennaio-febbraio ve l'ho detto, ho detto andate dalla Daniela, chiedete i dati ve li diamo, ma andare a leggere un bilancio, andare a leggere la passività del Palermo, che ha nel 2014, l'ho detto prima e mi faceva ridere, che ha nel 2016-2017 103 milioni di passività e 103 milioni di attività e dire che il Palermo ha 103 milioni di debiti, vuol dire non capire niente di bilancio, perché noi quando abbiamo venduto Di Bala, abbiamo un credito per Di Bala nei confronti della Juventus, di ancora 32 milioni, ha pagato solo una rata, ma poi abbiamo scontato il credito e abbiamo un debito verso la banca che ce l'ha scontato di 32 milioni, perché abbiamo un attivo di 32 e un passivo di 32, è così con altre voci che ci sono attive e passive, punto, ma questo è capire di bilancio, ecco naturalmente io non ce l'ho con chi fa la domanda, ce l'ho con chi non informa, lui a prima delle informazioni sbagliate, perché se legge su un giornale siciliano che io ho 100 milioni di debiti, vuol dire che è una informazione sbagliata. Io non ho mai mancato di rispetto ai tifosi, loro sì nei miei confronti, io sono una persona insultata, io non ho mai insultato, io non posso dire che manco di rispetto a loro se vado in serie B, manco di rispetto, allora voglio dire quello dell'Empoli è mancato di rispetto a quei tifosi, quello del Pescara è mancato di rispetto a quei tifosi, quello del Verona l'anno scorso è mancato di rispetto a quei tifosi, succede, Palermo è in una fascia dove l'anno prossimo se non arrivano nuovi investitori e andiamo in serie A, dobbiamo fare una squadra per salvarsi, io non ho più investimenti da mettere dentro, ho la mia capacità di muovermi sul mercato, come ci siamo messi in questo mercato qui, molto bene, sono molto contento di avere Tedino e Lupo e probabilmente con loro otterremo anche risultati diversi, così come ha fatto Sarri con Napoli, sperando che abbiano un po' di pazienza, se vi ricordate dopo 4 o 5 domeniche a Napoli parlavano dell'esonero di Sarri, ve lo ricordate o no? Meno male, questo è il calcio. La dichiarazione ottimistica di allora era, ero felice che il Palermo si fosse posizionato dietro alle grandi, infatti per 3, 4, 5 campionati, fino a quando mettevo dentro io 15 milioni all'anno, 20 milioni per i pianali perdite, eravamo dietro alle grandi, punto, però se vi ricordate allora la UEFA ci dava zero, tant'è che quando eravamo secondi in quell'anno disgraziato lì che poi sono andati in Coppa UEFA, con Guido Ling, siamo andati a giocare a Istanbul con i giovani della primavera, perché Foschi e Guido Ling mi dissero guarda, non possiamo andare a seguire anche la Coppa UEFA perché dobbiamo concentrarci sul campionato. Per lo stesso motivo ho fatto il mercato che dovevo fare, secondo me l'anno scorso il Palermo era una squadra migliore dell'Empoli, migliore del Pescara, migliore del Crotone, uguale a Chievo, uguale all'Udinese, uguale altre squadre. L'unico che ho sbagliato l'anno scorso è stato l'allenatore, ripeto, se avevamo Ballardini non si retrocedeva, se avevamo Tedino probabilmente eravamo oltre la metà classifica con la stessa squadra. Il Chievo è andato anche lui in Serie B 4-5 anni fa, l'Udinese ha rischiato due anni fa di andare in Serie B, c'è una differenza enorme. Il Chievo, l'Udinese, il Torino, in Genova hanno il Presidente presente, sempre. Palermo purtroppo non mi ha mai presente come Presidente e non per presunzione, ma per esperienza, se ci fossi stato io tutto l'anno qui vivendo a Palermo non saremmo andati in Serie B, perché come qualsiasi azienda, anche il calcio, ha bisogno dell'occhio dell'imprenditore che lo conduca, qui manca l'occhio dell'imprenditore. Io mi sono affidato anche a persone esterne che non erano all'altezza e non è facile trovarmi, lo stesso errore l'ho fatto anche a Venezia, avevo delle persone che dovevano gestirmi la società e non è facile. A Palermo manca la presenza di un Presidente che sia qui tutto l'anno, io mi auguro che la nuova proprietà abbia un Presidente che sia qui tutto l'anno, che faccia sentire la sua presenza da imprenditore. Più che un nuovo Presidente ci sarà bisogno di un uomo come Galiani, se il Presidente fosse americano e viene qui una volta al mese non va bene, saputo a Bologna ha messo un uomo e noi a Palermo, loro a Palermo devono mettere un uomo tipo Galiani, tipo Marotta, che è un mio allievo, ha fatto scuola con me 12 anni e con orgoglio dico che è diventato Marotta perché è stato a scuola da me per 12 anni. Direi uno dei grandi errori è stato l'asselta dagli allenatori nell'anno che siamo andati in Serie B, però è il senno di poi. Il Gasperini che avevo io, il più grande errore è stato in quell'anno lì, avrei preso, pensando che fosse Galiani, lo Monaco. Lo Monaco non è neanche l'ombra di Galiani. Le garanzie di Cascio non sono non le danni adesso, nell'anno scorso. Noi abbiamo incaricato rispetto all'anno scorso, dove avevo incaricato Banca Intesa, di vedere le credenziali di chi voleva comprare il Palermo e non sono state date. Noi abbiamo incaricato lo studio Wieters di Milano, che è uno studio dei più grossi al mondo, di fare, e all'incontro di settimana prossima sarà presso il loro studio, di andare a credere le credenziali anche quest'anno. Per cui se si presenterà a Cascio penso che si presenterà con imprenditori, con le credenziali. Cascio è una persona che io ho imparato a stimare, è una brava persona, non mi ha mai raccontato Ugie, non ha raccontato che lui ha i mezzi per fare l'operazione, ma ha i mezzi di carisma e mediatici per trovare con lui l'investitore per fare l'operazione Palermo. Tant'è che io gli avevo detto, caro Cascio, se non li trovi, costruiamo lo stesso insieme qualcosa, perché tu sei un testimonial che ci può permettere con un viaggio a New York fatto con Orlando, magari con Piero Grasso, con me e con te, di raccogliere un fondo di tifosi palermitani, che ce n'è milioni in America, che prendono con questo fondo, alimentare il fondo per prendere il Palermo. Per cui è una strada percorribile, è una strada che io pensavo di percorrere anche all'interno di Palermo, ma non è possibile, per cui se degli imprenditori di Palermo vogliono venire dentro, non dare dei soldi a me, ma mettere dentro i soldi nella società, entrare dentro a fare il Presidente, a fare la gestione, ben vengano. I miei soldi li posso prendere in dieci anni, non c'è problema. Belotti è stato ceduto perché Iachini mi diceva che andava ceduto, in quanto che non sarebbe mai diventato un giocatore. Lo credevo un poco anch'io, perché uno degli errori gravi che ha fatto lo staff di Iachini, non Iachini, è stato, se vi ricordate, ingobbire Belotti. Belotti, l'ultimo anno che era con noi, non era il Belotti che è arrivato, non saltava più di testa, non andava via in progressione, sbagliava tutti i passaggi, sbagliava un casino di gol, mi ricordo, ma era Belotti che era sempre in zona gol. Tant'è che a Torino alle prime sei, sette partite, otto partite non ha giocato e Cairo mi ha chiamato, mi ha detto mi hai dato un bidone, mi ha detto aspetta, ha avuto un grande merito, riportarlo fisicamente a quello che è Belotti. Belotti è un grande giocatore fisico, con una grande fisicità, per cui lo faso, lo faso dovete chiedere allo faso cosa vuole fare, io sono felice se lo faso rimane, ma deve rimanere a allenarsi come gli altri, non si sta allenando come gli altri, ad avere la volontà di diventare giocatore, non è giocatore ancora, lo deve diventare, e naturalmente questi media che li sono in giro, così che li creano, probabilmente li fanno male, così come hanno fatto male a suo tempo a Bentivegna, così come hanno fatto male a altri giocatori, io mi auguro che lo faso rimanga, perché lo faso e il suo sponsor numero uno era Di Marzio, che l'aveva proposto anche a Marotta, la Juventus, io mi auguravo che non andasse via, ma dipende da lui se diventare un giocatore o no, i mezzi tecnici ce li ha, però c'è anche un grande allenatore quest'anno che lo può far diventare il giocatore, ma bisogna chiedere a lo faso se vuole rimanere a andare via, non a me.